Eccoci nuovamente in una nuova lezione di armonica diatonica, lezione di musica. Ti do il benvenuto qui sul mio sito lezionidiarmonica.it e su questo canale YouTube. Oggi parliamo di suonare a tempo, di seguire il ritmo e lo facciamo facendo pratica utilizzando il metronomo. Questo strumento che ormai si trova anche gratuitamente come applicazione per il telefonino o anche lo troviamo online. Basta cercare il metronomo su Google che esce un metronomo. Ci aiuta a andare a tempo, lo possiamo settare in quattro quarti, tre quarti, due quarti e ci dà la scansione delle misure musicali soprattutto a volte accentua anche il primo battito. Può essere che sia un settaggio ma normalmente lo fa. Che cosa facciamo oggi? Facciamo degli esercizi proprio con il metronomo. Io metto il mio metronomo a 54 battiti per minuto. Conviene partire lentamente. Se per te è troppo lo puoi mettere più lento e partiamo a suonare dal do il quattro più. Poi abbiamo una pausa da quattro quarti. Naturalmente questo è un esercizio facile però ti assicuro che se sei all'inizio del tuo percorso di studi e non hai mai utilizzato un metronomo può darsi che tu faccia fatica a eseguire una nota, ogni nota, esattamente sul bip del metronomo. Vediamo il secondo esercizio. Questa volta partiamo a suonare dal 5 soffiato. Abbiamo nella seconda misura una pausa da un quarto e poi nella quarta misura abbiamo una nota da due quarti, il quattro soffiato, e una pausa da due quarti. Sempre la stessa velocità. Ecco qui abbiamo suonato sette note di fila e poi c'era la pausa da un quarto e abbiamo suonato anche una nota un po' più lunga. Vediamo il prossimo. Qui finalmente suoniamo degli ottavi. Quindi abbiamo nota da un quarto, nota da un quarto, quattro note da un ottavo, nota da un quarto, pausa e pausa da due quarti. Poi qualcosa di simile ma terminiamo con il quattro meno, quindi il quattro aspirato invece che soffiato. Proviamo. Tre, quattro. Due, tre, quattro. Uno, due, tre. Questo è già un pochino più complicato perché appunto c'erano gli ottavi. Vediamo il prossimo. Qui introduciamo una pausa alla fine della misura. Quindi suoniamo due ottavi, quarto, quarto, pausa da un quarto, pausa, pausa, pausa. Ecco alla fine di questo esercizio c'era un bellissimo arpeggio di do maggiore. Do, mi, sol, do, fori, quattro, cinque, sei, sette soffiato. Vediamo l'ultimo esercizio. Nell'ultimo suoniamo le terzine. Quindi abbiamo quarto, terzine che formano un quarto, quarto, pausa e poi altre cosette. Proviamo. Oltre alle terzine abbiamo incontrato nell'ultima misura anche una nota da tre quarti. Quindi la nota lunga e poi avanzava un quarto che era espresso con la pausa da un quarto. Bene, io ti invito a fare pratica con questi esercizi. Frase per frase con il metronomo parti molto lentamente. L'importante è che cerchi di suonare le note dove devono essere. Quando suoni i quarti coincidono con i bip. Quando suoni gli ottavi il primo quando suoni a copia e coinciderà con il bip. Il secondo invece sarà in mezzo tra un bip e l'altro. È molto importante non buttare l'ottavo in mezzo tra un bip e l'altro a casaccio, no? Deve essere proprio a metà, non un po' prima o un po' dopo. E cerca di resistere alla tendenza di anticipare il metronomo. Io ti auguro buona musica e ti invito a contattarmi se vuoi essere aiutato a studiare l'armonica. Ci vediamo presto.